Abbiamo creato ForFunding per far arrivare la tua generosità lì dove c'è più bisogno. Perché ogni donazione può nascere in modo diverso. Ma quando parte dal cuore ci regala qualcosa. E può arrivare lontano. Per rispondere subito anche alle emergenze. Sostieni i progetti in cui credi, con una donazione o tramite il prestito di comunità. Perché un presente e un futuro migliori si creano insieme.